Allora, il pubblico ha deciso che a dover abbandonare immediatamente la casa del grande fratello è... Carmen! Colpo di scena, colpo di scena, Carmen deve abbandonare la casa. Sì, guardate, grazie, sono felicissima, certo mi dispiace tanto ma sono stata alla grande per quattro mesi e quindi mi sembra giusto e via. In bocca al lupo fede, di tutto, e grazie al grande fratello per questa bellissima esperienza. Grazie Carmen, io ti aspetto qua in studio da me, saluta pure. Grazie, grazie, ciao Katia, un piangere, dai, 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 che se io rivedo tranquilla. Grazie a tutti. Grazie a tutti.